Carla eccoci per l'aggiornamento di questa sera in primo piano su Lanza il concerto in occasione dell'anniversario della Repubblica Mattarella per l'Ucraina si cerchi una pace giusta il Presidente della Repubblica ha detto l'Italia continuerà ad assicurare il proprio sostegno al popolo ucraino e al suo diritto all'indipendenza al Quirinale per la prima volta una donna dirige l'orchestra la cronaca su Sky TG24 l'omicidio tramontano l'altra fidanzata di Impagnatiello si è detta insospettita da guanti in lattice la ragazza 23enne di origine inglese è stata ascoltata dai carabinieri il 29 maggio grazie al suo racconto gli investigatori sono riusciti a capire che la vittima non si era allontanata volontariamente tra le dichiarazioni la giovane ha raccontato che Impagnatiello le avesse detto che la 29enne era bipolare la stampa Palazzo Chigi tavolo con la Corte dei Conti approvato l'emendamento dell'esecutivo si va verso un codice di controlli, fitto, verifiche sul PNRR e saranno ex post non in itinere focus anche sulla responsabilità erariale sul sito della Repubblica torniamo a parlare di conflitto russo-ucraino Zelensky ha detto tutti i paesi europei siano nell'Unione Europea e nella Nato raid russi sul Kyiv tra i tre morti anche una bambina via libera dell'Eurocamera al piano per le munizioni UE, Mosca sventata l'invasione di Kyiv nella regione di Belgorod gli attacchi non influiranno sul conflitto Carla, queste erano le news di questa sera